di quella miseria scascia tutto oggi mi scendo va per poco ah donna di qua eh c'è qualcosa qua non capisco dove ah è qua ah è una pausa ah 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 ok andiamo c'è la mira dei puffi ciò ha un colpo che c'è di bello qua che è ah ci sono i amici eh amici se volevo dire che è stato qua oh cazzo ma dove sono gli amici qua ah forse è qua sopra ecco gli amici gli amici Fitz arriva amici mi amici mi amici mi amici mi amici Ma che cagno, cagno? Aspetta un attimo, che cambio? Ok, voglio prendere solo un animo, ecco questa, levatevi che si tiro sotto, da dove ero i nemici? Gli amici, i nemici cioè, ah no, oh merda No Cogno C'è una in alta, dove era? Ah quanti armi, aspetta Mmm, questa non mi piace, questa, la spada, ah questa Ah è già carica quella, ok Ah è lotta questa Oh no? Ah no, non è lotta Rilevo un gradiente di forza anomalo da una console connessa al silo carburante, potrebbe essere quello che stiamo cercando Ok Cogno Ah sono mezzotti, ah da disfusioni, sono morti, oh, che risalta malifica Ah 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 Grazie a tutti. Oh, qua do' fare. C'è un documento. Dov'è il documento? Ah, è qua. Sì, sì. Sperate che leggo il cintolo, il cuore. Sperate che leggo il cintolo. Sperate che leggo il withdraw. Ok, ok non so che c'è il dugo lì ero casciato bovalo ah sono arrivato a casa e faccio alcune cose pure io in casa dopo ragazze e son casciato prima continuo a casciare oggi no non vado vado ah vado un nucleo grazie per il bone game ah si lo giusto fatto tutto ho fatto tutto ah ma ho fatto tutto ma ci sono quelli nemici scusa fa vedere completo ok ho preso tutto documenti non so che ci sono documenti che prima ho sentito pipipi ma non so che ho preso tutto ma che danno che ho fatto gande no mi sa che ho preso tutto faccio il teleport una base amica qua no ora ci sono le armi e se questa attiva questa ok mi ha fatto l'altra roba è che violenza con quale violenza me lo butta allora vediamo un po cosa manca acqua andiamo a prendere queste adesso un pochino di qua e allora ok arrivato sono prossimo poi dopo lo faccio figlio di sultana merda la nostra presa è qui pesto muoio No, no, non ho fatto niente di male Da Tomy mi ha salvato adesso Ah qua Eh da mazzano un po' di Lo cazzo è quello che spada Ah lì Ah lì Mi cica Merda quanta gente c'è Un momento Da prendere il biglietto Non so che sottolinea Non so che sottolinea Ma porca di quella Puzzoletta Ma dove Ma Ma merda fitta con le banane Sono morto Maledetto cecchino Tornare a ammazzarlo Dove Ma guarda che fettuso Ma peso Ma no E' già sortito giù Lo peso Vieni Ok Torniamo alla base Aspetta che è carica Andiamo qua Oh Oh Tutto 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 Ah, cambiamo armi Ah, perché la carica Prendiamo il cecchino qua Ok, ciao Ora chiamiamo un mezzo Togliti te Beh, alip Ah, scemo Allora, cosa mancava? Ah, qua Andiamo Cos'è quello? Ah, niente Questo che cos'è? Ah, un mezzo Ah, questa roba Che mi ha fatto Prendo un colpo Ah, a proposito Ah, mi manca la cola Altri due Punto butto Eh, qua Pensavo peggio Cos'è questo luogo? Posso andare sui sopra Posso andare sui sopra? Eh, così Possiamo andarci così Ah, niente Niente, più di avanti così? Ora cosa manca? Ah, di qua Questa cos'è? Ah, non toglie Anioni Ah, quello l'ho già fatto Questo l'ho già preso Sì Completato Eh, c'è anche qua Guarda Beh, andiamo a prendere questo Poi facciamo una diffrazione Ci ho messo Ci ho messo gli nemici A proteggerla Eh, sì Cos'è? Ah, basta che la lupo Sì Sì Ci non Prendiamo Prendiamo Ciao 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 Hola No Mappa Qua Andiamo Questo l'ho fatto Mi sembra che lo schiacciate qua Ah no Via Arrivederci Ah Ah Sappiamo molto Ma ignoriamo altrettanto Abbiamo Ah io No Hola Cando Cando Advance Putz Cando Cando Prendiamo Cando 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 steps C Camus C painful Cando 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 Libero? Si. Terrato. È andato in mezzo. Ah, è andato sotto. Spavento. C'è una radio qua. Eccola. Che cazzo? Mi fanno cagare in mano o mi fanno cagare? Che cazzo? Via, via, via. Via, 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 via. Posso teleportarmi? Presto? Ciaone? Mi sono andato. Ciao, ciao. Ciao. Ai, Lola. Ai, Lola. No. 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 Proprio andiamo vicino. Anzi, prima... Ci sono anche queste. Detta base. Poi diamo il tasto a base qua. ahi l'ora sbaglio il tasto ok fatto allora andiamo un po' ah qua c'è l'ova ma posso andare direttamente col mezzo no prima andiamo a prendere qua poi questo e questo qua ah va quanto c'è neri qua no no fermato pronto a consegnare il veicolo ah tu ah qua niente ahi l'ora ma che bella cascata ok 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 ah co ah qua non da scendere ah posso scendere qua guarda ok che c'è qua ah dai ma è vero non me l'ho fatto eh perché sono già ah dov'è quello l'inizio ecco ah perché do eliminare la squadra per prendere l'alma giusto forse è meglio che eh fa più danni ah sono caduto ah che c'ho fatto ah è due no eeeh beta mate permette a sparare ah coño chi manca ah lì ah c'è una cosa ok fermo che ti do lo sparare con un colpo due ah là fatto gg ma l'ho rotta la 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 vicenda mi sa che è sotto qua mmm dove è l'entrata della grotta di qua di qua mi saliva forse di qua no ne risaliamo dove è c'è no coño chissà dove è quel posto di qua ecco allora vediamo potenziamo qualcosa se posso qua quasi potenziato tutto grande adesso prendiamo ancora una micella che mi si è rotta andiamo qua andiamo qua andiamo allora posso farlo sparco del veicolo ma stavolta nessuno sotto prima andiamo a prendere questo bello c'è un ragu lì una tiga ah è una mia base qua vuoi controllare una cosa magari c'è un teschio sopra lì no mi salio non mi salio la sopra non mi salio la sopra bello sì niente e ora sì niente no co co c'è una racconta aerea bastardi sì niente no ma dove ah da dietro ma merda sì niente sì niente chi è chi è no 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 ho perso il mezzo ma no 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 andiamo a fare il teleporto no 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 dove te lo ricomincio ah il te lo ricomincio è qua ok ecco qui sta fermo quello Bomba 3 Hai spiaccicato Preciso Vado a prendere munizioni per quest'arma Che qua si scarica Eccola Figa questa Prendiamola Va bene così Aspetta Database Canceliamole Non potevano fare il tasto che è come su Assassin kid Per cancellare le cose Cerico Non so come spiegare Che non li trovo Eccola qua Ah ho già messo il segno C'è qualcosa su quell'isola Ah si Che intuito che hai avuto Ja Pizzicchio Pizzicchio Direzione direzionale Attiva Pronti a registrare Missione è fallita Escheron ci stava aspettando fin dall'inizio Mali Panago Sarka Morti Ascoltatevi Ah cosa vivo Coglio Ok Ok Quattro 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 prossimo qua qua ho fatto tutto ci sono antenne? no hai la pulita? si come? aspetta eh mi so che non la gotta qua sotto dove è l'entrata? scusa ma scusa ah forse l'ho già preso? aspetta sono andato in tilt no eh perché c'è? ah lì ah qua è l'ho già preso? no no Capisco qua un po' più stiamo bene Sì l'ho già aperto qua E qua non capisco dove Ah ecco qua c'è qua un documento Ah ecco qua l'erlo weh Ah Ok Chi ha l'erlo ha i nemici E ormai c'è qualcosa da sopra? Sì Andiamo No No Qua? No Eh che cazzo C'è niente Andiamo a sudare ora Ah Ah E ora Che teniamo qua No Ora cosa manca? Ah Ah di qua Uh un attore Ok 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 E faccio il teleporto qua Ah Ah non posso telepostarmi Ah nei si Ok Ah 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 Allora Sette meno cinque Adesette stacco Allora 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 Ok Allora 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 Andiamo Her Adesso l'antenna Porca vacca Chi che mi ha ammazzato un colpo solo Bene lo metto qua col cecchino Ma che è? C'è qualcosa qua vicino Sento pipì Due Ah è qua sotto Ok Ora Ah qua No l'ho già fatto quello scusa Questo ho fatto Questo no Beh intanto che sono vicini qua Andiamo qua Ok Cogno Cogno doppio Eh qualcuno prima Allora Allora Ancora Allora Andiamo Secondo cannone fuori uso Chris Andiamo a prendere qua Facciamo l'ultimo Un'antenna Allora Tauro Rapporto Ora Mette il presente Non funziona niente Tranne la mia corazza Deve essere stata l'esplosione Anche l'ultimo cannone antiaereo è annuato Qualunque cosa fosse Ha riequilibrato le cose Muoviamoci ora Un'antenna Uh, che passaggio angusto. Eccoci. Ah, che lancio? Perfetto. Boh, ho fatto tutto. Se spostiamoci la base, stacchiamo. Anzi, prima, qua. Ok, trasportiamoci alla base. Aspetta. C'è altro? Posso potenziare qualcosa? No. Allora, andiamo alla base, va. E stacchiamo. Ok. Hai, hai, hallo? Che c'è? Live? Oh. S'incantato Twitch qua. Ah, non c'è nessuno. Boh, stacchiamo. Ciao, ciao. Ah, non c'è nessuno.